Musica Auguri di Santa Pasqua a tutti quanti voi e ovviamente alle vostre famiglie che siano giorni questi pasquali che servano tra le altre cose ovviamente ad acquisire serenità ma anche a ritemprarci per far sì che riusciamo poi ad affrontare le nostre battaglie quotidiane il momento è difficile però io sono certo come del resto poi dico spesso che noi italiani noi napoletani poi non ne parliamo teniamo le possibilità di poter uscire comunque dalle difficoltà che giorno per giorno si presentano siamo come Dio amo dire come l'area va felice risorgiamo sempre dalle ceneri ci vuole solo la nostra oltretutto buona volontà ecco siamo in tempo di Pasqua però non dobbiamo aspettare che tutto scenda dal cielo aiutati che Dio ti aiuta naturalmente noi siamo abituati a riboccarci le maniche a